Salve a tutti, oggi vi parlerò del caricamento dell'aria quando andiamo a tirare praticamente quando andiamo a tirare facciamo respiriamo buttiamo dentro l'aria della nostra macchina e tiriamo quindi una cosa molto importante è abituarsi a caricare la nostra arma nel modo giusto perché chiaramente se respiro così io sarò sicuramente in quel punto tipo triplo tipo eh però se carico troppo vado su carico troppo poco vado giù vi faccio l'esempio nel video dopo del doppio 20 se noi tiriamo la freccia del doppio 20 alta più sopra il ferro vuol dire che abbiamo caricato troppo la nostra arma poi andremo ancora a tirare lì perché rimaniamo sempre con la stessa aria magari poi buttiamo fuori l'aria e ci va a finire sotto perché non riusciamo a tenerla magari per tanto tempo e andremo a vedere che cosa succede se noi tiriamo la freccia sempre qui al doppio 20 come succede a molti giocatori di tirare lì è perché magari non sono in quel momento fisicamente a posto io mi rendo conto che molte persone non si rendano conto di questo però ho visto un sacco di persone giocare molto forte sul doppio venti e poi avere delle giornate in cui il venti era quei tre centimetri quattro sopra il doppio venti e tutto il giorno sarebbe andata a finire lì perché per il che il loro caricamento dell'aria non era giusto perché in quel giorno magari non erano fisicamente in perfetto ordine e quindi caricavano male il loro respiro o magari può capitare che se avete mal di pancia voi inconsciamente vi chinate leggermente verso l'avanti un po di più del solito quindi magari caricata anche bene il braccio ma questa cosa di avere questo minimo malessere mangiato troppo e vi fa chinare leggermente verso l'avanti e vi fa perdere tutta la vostra posizione quindi bisogna saper ricordarsi di stare ben dritti per caricare il nostro tiro e lanciare adesso vedete cosa ho fatto tirando al doppio venti state lì però nell'ultima freccia il mio respiro è carato quindi praticamente quando respiro tengo su mano a mano che scende l'aria mi scende anche il braccio un pelo vedete cambia l'angolazione questa l'ho tirata male vedete ho respirato giusto e poi è calato il respiro ho ricaricato la mia arma diciamo e sono 8 a 4 perché ho caricato troppo quindi quando tiriamo fuori al doppio venti è sempre meglio ricaricare il tiro fuori l'aria vi ricordo che è disponibile su amazon the big fish of the earth il libro e manuale completo sulle fraccette saluta a tutti